L'elogio della pazienza è nato, potremmo dire, già qualche anno fa nella mia mente. Durante il lockdown ho ripreso le cose e le ho messe su carta. Come si articola il percorso del volume? Sono quattro capitoli, quattro figure, quattro storie, due coppie. Agostino e Monica, Francesco e Chiara Rassisi. Monica, la pazienza di sapere attendere i tempi di Dio, perché Dio ha i suoi tempi che non sono quelli di Monica. Agostino, la pazienza come perseveranza nella ricerca, ricerca Dio e alla fine lo trova. Francesco è il martirio della pazienza perché deve esercitare, diciamo così, accetta la sofferenza fisica, la sofferenza spirituale. E Chiara è la pazienza come tenacia nell'obiettivo, come non stancarsi, no? Per seguire un obiettivo ed essere paziente finché non lo si raggiunge. Ecco, ma che cos'è la pazienza e a che cosa serve? La pazienza, dunque, è la capacità di vivere bene, a mio avviso, quelle situazioni che Dio ci chiede di vivere. Quasi riconciliati con la situazione che Dio... Viverla in pace. Non significa solo sopportare, perché sopportare è un atteggiamento più passivo. Ma la pazienza si può coltivare, si può imparare, la si può alimentare, in che modo praticamente? Beh, la pazienza è certo che si può imparare, con grande esercizio. Anzitutto nel mettersi in ascolto. Molte volte siamo impazienti anche perché non sappiamo ascoltare l'altro e non sappiamo metterci nella prospettiva dell'altro. Ma leggiamo le situazioni degli altri con gli occhi nostri e filtriamo tutto in funzione nostra. Quando avviene uno stop, a queste attese andiamo in tilt. Su cosa puntare in particolare per riconoscere la pazienza e apprezzarla? Il sorriso, la dolcezza, sono degli effetti della pazienza. E quando si vedono quegli effetti, è come dire, sono segno che dietro può esserci molto facilmente una persona paziente. Come si presenta l'impazienza e come mai è così frequente? Beh, l'impaziente oggi è frequente proprio perché nessuno sa più aspettare. E quindi qualsiasi... quando io non tengo le cose, le cose devono essere sotto il mio controllo, continuo. La pazienza mi richiede di accettare le cose che non sono sotto il mio controllo, di accettare i tempi degli altri, come Monica che deve accettare quelli dei miei. Ma questo è sempre più difficile oggi, perché quando uno parla immediatamente è soddisfatto. Non c'è più il no neppure che educava anche un bambino, no?